Un'ondata di commozione e cordoglio per la morte di Diana, la 27enne che giovedì mattina, alle prime luci dell'alba, ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Sono infatti due le comunità che si stringono ai familiari della giovane originaria del Casentino. La comunità di Falciano, frazione di Subbiano, dove ha vissuto la ragazza e dove attualmente vivono i genitori, e quella di Fogliano, dove invece era andata a vivere con il fidanzato e da dove ieri era partita. Diana lavorava in un supermercato di Arezzo e proprio lì era diretta quando è avvenuto l'incidente. La 27enne stava percorrendo la E78 quando, poco dopo l'uscita di Pieve al Toppo, ha perso il controllo dell'auto, una Fiat Punto blu metallizzato. L'auto è uscita di strada tra la vegetazione, poi il violentissimo impatto contro il tronco di un albero, che ha letteralmente distrutto il mezzo facendo sbalzare il motore a distanza di metri e che non ha lasciato scampo alla ragazza. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del terribile schianto sulla carreggiata, infatti non sarebbero emerse tracce di frenate. A causare l'incidente potrebbe essere stato quindi un colpo di sonno o di un malore a condurre gli accertamenti la polizia stradale di Arezzo.